Ciao a tutti, sono Sirio e oggi voglio mostrarvi un classico della cartomagia di cui mi sono innamorato periodatamente è la mia versione di acqua e olio mini acqua e olio con poche carte buona visione Un gioco con poche carte le rosse e le nere chiaramente, veramente alternate uno per una ma forse lo sapete meglio di me basta aspettare e dopo la prima rossa viene la seconda e nel bicchiere ovviamente le nere è che come acqua e olio i colori non si mescolano voglio dire alternato rosso nero uno per uno ma poi basta aspettare rossa rossa nuovamente unite e ovviamente le nere cosa succede se non le mescolo? cosa succede se le lascio così separate fin dal principio proprio nulla a meno che non le altro allora si alternate rosso nero rosso nero veramente ma ormai lo sapete meglio di me basta aspettare e così nuovamente le rosse giunte e nel bicchiere ovviamente le nere e niente se siete se il video vi è piaciuto lasciatemi pure un commento per me è molto importante se magari siete curiosi di sapere come mi è venuta l'idea di usare il mini acqua e olio con il bicchiere o di come ha preso piede questo effetto scrivetemelo potrebbe essere carino se siete interessati a fare un video di analisi della struttura dell'effetto e della poetica chiamiamola così anche se non è il termine giusto della poetica dell'effetto io intanto vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.